17 marzo, festa sì o festa no? La decisione del governo, per me il 17 marzo sarà festa, io sto lavorando da tanti mesi a questa iniziativa, il 17 marzo per me sarà una grande festa. Il problema per esempio per i musei è che noi concordiamo l'anno prima le festività con i sindacati, con i lavoratori e quindi queste feste che vengono così improvvisamente ci creano qualche problema. Comunque, certamente l'idea di festeggiare con una giornata nazionale questa festa è una bellissima idea, è un po' tardiva, però vedremo cosa sarà, io non so se riusciremo a tenere i musei aperti se è festiva.